Ci sembra che questa realtà di San Domenico e Santa Mirengradi sia stata particolarmente presa di mira negli ultimi anni, quindi insomma volevamo sottolineare come i fedeli, la comunità, siano ormai veramente stanchi e si sentono presi di mira da una serie di decisioni che non siamo stati chiamati a condividere in alcun modo. Sembra all'orizzonte il trasferimento di Don Daniele dalla parrocchia di San Domenico, uno scenario che ha allarmato i parrocchiani che hanno particolarmente apprezzato il suo impegno da quando appunto ha preso servizio qui a San Domenico, parrocchiani che lamentano anche un eccessivo cambio di sacerdoti negli ultimi anni. Abbiamo un po' contestato le decisioni che il nostro Vescovo ha assunto in questi giorni di un trasferimento di Don Daniele visto che insomma in questi due anni che Don Daniele è qui ha fatto un egregio lavoro e ha praticamente riempito di nuovo la Chiesa con delle attività sia per i ragazzi che per i genitori e quindi una cosa che dal punto di vista liturgico ha una sua valenza. Quindi questo ci dispiace molto che si interrompa un lavoro così repentinamente senza dar possibilità a nessuno di poter chiedere giustificazioni per questo. Voi sottolineate anche il fatto di un eccessivo cambio di parroci negli ultimi anni? Assolutamente sì perché negli ultimi sette anni nelle parrocchie di San Domenico e Santa Maringrati si sono avvicendati tre parroci, due vice parroci. Questo anche in una zona e ci tengo a sottolinearlo a rischio di disagio sociale perché nel centro storico della nostra città come in tante altre città i punti di aggregazione mancano e il lavoro delle parrocchie ha anche un valore del tutto laico come centro appunto di incontro, di aggregazione, di comunità e quindi ci tenevamo a sottolineare il fatto che è molto importante che queste cose vengano valorizzate e preservate nel tempo. Chiedete magari un incontro con il Vescovo, che cosa pensate di fare? Noi abbiamo chiesto di incontrare il Vescovo già diversi anni fa quando trasferì il primo parroco a Poppi ci fece capire che noi non avevamo capito lo scopo dei trasferimenti che questo Vescovo in qualche maniera faceva per cui a noi questa cosa qua ci ha fatto parecchio parecchio male lui deve sapere solo che noi non abbiamo nessuna preclusione nei suoi confronti come persona ma sulle cose e sulle azioni che fa sì si può fare? Sì 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 Sì